In caso di contagi covid a scuola il protocollo varia in base alla fascia d'età. Entrano in vigore da oggi le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e di quello della Salute rese note agli istituti tramite la circolare congiunta del 3 novembre. Nella fascia d'età fino a 6 anni in caso di contagio di un bambino tutti i suoi compagni di sezione dovranno effettuare subito un test che sia antigenico o molecolare per poi ripeterlo dopo una quarantena di 10 giorni. Stessa cosa per il personale scolastico che ha svolto attività in presenza per cui però la quarantena può variare da 7 a 10 giorni a seconda della valutazione del Dipartimento di Prevenzione. Per i bambini stessa cosa in caso in cui il contagio sia tra i lavoratori. In questa situazione però i colleghi dovranno isolarsi per 5 giorni se vaccinati per 10 se non vaccinati. Nelle scuole primarie secondarie invece nel caso in cui un alunno fosse contagiato i compagni dovranno effettuare un test subito e uno dopo 5 giorni. In caso di un secondo contagio alunni e docenti vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi saranno sorvegliati coi test. Gli altri dovranno mettersi in quarantena. Quarantena che scatterà per tutta la classe, docenti inclusi, in caso di tre contagi. I docenti dovranno ripetere il test dopo 5 giorni se vaccinati, dopo 10 se non vaccinati. Il protocollo è lo stesso nel caso in cui il contagiato fosse tra il personale scolastico. Ad ogni modo sarà il Dipartimento di Prevenzione della ASL a dover intervenire, ma se l'autorità sanitaria non dovesse essere tempestiva, spetterà al dirigente scolastico informare la ASL, individuare i contatti scolastici, sospendere temporaneamente le lezioni e trasmettere le indicazioni predisposte dal Dipartimento ai soggetti interessati. Inoltre per ogni istituto i Dipartimenti di Prevenzione individueranno dei referenti. Ciò sovraccarica il lavoro delle istituzioni scolastiche, lamentano i sindacati. Se infatti è utile uniformare i comportamenti delle scuole, agli istituti non è però garantito l'adeguato supporto. La CGL chiede che il Ministero finanzi l'organico aggiuntivo per il personale ATA e fornisca indicazioni, in caso di misure restrittive, per sostituire immediatamente il personale, così da inficiare il meno possibile la didattica. Non sono state individuate però misure a supporto dell'organico. Nella legge di bilancio non sono predisposte risorse per la prosecuzione dei contratti oltre il 31 dicembre.